Al via la terza edizione di Estate, Muse, Stelle, evento che andrà in scena lunedì 22 agosto alle ore 21 presso l'Anfiteatro di Lucera con l'attrice Daria Paoletta, vincitrice del premio EOLO Award 2022, che si esibirà con il suo Esterina Cento Vestiti. Lo spettacolo è un racconto del mondo dell'infanzia visto con gli occhi di Lucia Ghibelli, una giovane donna che rivive i suoi giorni a scuola caratterizzati dalla presenza in classe di Esterina, i cui comportamenti creano scompiglio nella sua vita. Quella di Lucia è una storia che evidenzia gioie, dolori, riflessioni e domande esistenziali di un'età fragile. La messa in scena è prodotta dalla compagnia Burambo, gruppo che dopo una lunga esperienza di teatro per ragazzi si è specializzato nel teatro di figura, compiendo un importante percorso di crescita artistica e tecnica accompagnato da vari maestri come il regista Carlo Formigoni e arrivando a vincere anche quattro EOLO Awards.